Domenica 23 giugno è la prima giornata di donazione, la prima giornata estiva di donazione organizzata dalla sede Bitontina della Fratres. C'è una bellissima giornata, c'è il sole, sto per andare a mare, però prima di andare a mare sono passato dai miei amici dell'associazione per la mia donazione periodica. Posso Carmela? Sì, faccio. Grazie. Siamo con Giacomo Bruno che è il presidente della sezione Bitontina della Fratres, che ci spiegherà che cosa accade ogni giorno di donazione qui. Praticamente nella giornata di donazione noi siamo organizzati con l'Asl San Paolo di Bari, dove arriva un'equip medica presso la nostra sede, che è l'unità di raccolta del gruppo Fratres Santimedici di Bitonto, dove i nostri donatori periodicamente donano il loro sangue. Ecco, la periodicità era una cosa importante, ci diceva anche prima il dottore, in realtà proprio parlando di periodicità, questo è un periodo particolare, l'estate calano inevitabilmente le richieste di sangue, però aumentano le necessità da parte delle asme. A donare, in virtù del fatto che per gli incidenti stradali, per quello che sono gli interventi chirurgici, gli ospedali in questo periodo hanno enorme carenza di sangue. Ecco, parlavamo anche della necessità quindi del sangue, della necessità di questo gesto di generosità, però aiutiamo chi vuole effettivamente avvicinarsi, chi vuole donare. Ricordiamo quali sono le prossime date, i prossimi appuntamenti con la Fratres? Certamente, ogni 15 giorni qui da noi esiste un calendario fisso, ben organizzato, in modo tale che tutti i donatori in questo periodo, fino al mese di agosto incluso, possano venire qui da noi a donare. E per questo abbiamo anche incrementato l'intervento della donazione con la campagna Dona in estate, Sorridi in autunno, perché effettivamente il donatore che vierà a donare qui da noi nel periodo estivo, avrà l'opportunità nel periodo invernale di sorridere con le commedie invernacolo bitontino che abbiamo organizzato, con le compagnie triatali di Bitonto. Quindi siamo presenti sempre sul territorio per tutto l'arco dell'anno. Quindi adesso nessuno avrà più scuse per non venire a donare? Ma non significa avere scuse per venire a donare. Innanzitutto il gesto della donazione è inteso come atto di solidarietà verso il prossimo. E questa è la cosa più importante, che poi insieme all'atto di donazione venga fuori un sorriso è anche utile per il donatore. Passiamo con il dottor Numerato, che è responsabile sanitario di questa giornata di donazione dell'ospedale San Paolo. Qual è il ruolo della ASL all'interno di questa giornata di donazione? Beh, insomma, d'accordo con le associazioni, si concordano. Secondo un programma prestabilito l'anno prima, c'è un calendario che è stabilito appunto con le varie associazioni, la Fratres, l'Avis e la Fidas. E in questa maniera ci sono delle giornate, per noi domenicali, dove c'è un punto fisso, come in questa circostanza, il punto fisso di Bitonto, per dove noi eseguiamo eventualmente tutti i nostri controlli e chiaramente, compatibilmente con quelle che sono comunque le indicazioni che sono state messe in atto con la Fratres, si cerca eventualmente di approvvigionarsi eventualmente delle nostre unità di sanque, che sono indispensabili quando abbiamo determinate condizioni che riguardano i nostri riceventi. In questa circostanza, è stata concordata questa giornata con la Fratres di Bitonto, che ha, secondo me, un'ottima sede in questa stanza, che è la stanza della selezione, in condizioni del tutto, si mantiene innanzitutto una certa tutela per quanto riguarda il donatore. In condizione appunto, in questa circostanza, noi valutiamo se il donatore, dal punto di vista clinico e dematologico, ha le condizioni per poter donare. Chiaramente dal punto di vista clinico, la cosa più importante è una valutazione delle condizioni cardiologiche e le condizioni respiratorie. La cosa più importante in questa circostanza sono le condizioni dal punto di vista cardiologico. Se il donatore comunque è in grado di donare, dovrebbe avere buoni parametri per quanto riguarda la pressione. Chiaramente non deve essere iperteso. Questa comunque non è una condizione necessaria, perché anche se il donatore comunque, in ogni caso, è un donatore che comunque è in terapia per via della pressione, comunque sotto controllo, dopo attenta valutazione da parte del medico, in questa circostanza, è in grado comunque di donare. Allora, in questa circostanza, un po', come dicevo precedentemente, si valutano alcune condizioni che sono indispensabili per la donazione. Sono ovviamente delle condizioni che sono state fissate, dei parametri che sono stati fissati a livello internazionale e chiaramente anche a livello europeo. La condizione per poter donare dal punto di vista tematologico per quanto riguarda la donna, loro lo sanno, i nostri collaboratori comunque hanno inculcato eventualmente questa mentalità ai donatori, è importante appunto che la donna doni con un valore di emozumino intorno a 12,5 e non al di sotto, e per quanto riguarda l'uomo, un valore di 13,5 e non al di sotto. Stare un po' al di sotto non significa che il donatore non sta bene, solamente in quella circostanza non potrà donare, quindi non è un motivo di esclusione fondamentale. Tutto qui, insomma, si valutano queste condizioni. Dottore, abbiamo visto quindi che è un atto di generosità, questo però è anche un modo per tenere sotto controllo la propria salute in maniera periodica? Appunto, noi cerchiamo tutti i donatori periodici che sono per noi importanti. È importante anche perché comunque il sangue va ad una persona che in quel momento è refedato, qui ne ha bisogno di sangue e quindi abbiamo bisogno che le condizioni del donatore siano condizioni valutate periodicamente con nessun problema dal punto di vista virologico. Ci sono delle malattie trasmissibili, come sapete, per quanto riguarda l'epatite B, l'epatite C e altro, che vengono valutate in questa circostanza. In questa stanza, nella tutela appunto delle condizioni del donatore, si valutano le condizioni anche anamnestiche della donazione e si vede eventualmente se il donatore è in grado di donare oppure no. Torniamo al discorso appunto del... In questa circostanza comunque vengono valutate anche le condizioni preventive per il donatore. Fare donazione è anche un discorso preventivo. a parte il fatto che c'è tutta una serie di esami che vengono fatti in questa circostanza e che sono importanti anche per...